Ciao ragazzi, oggi vi svelerò un segreto per chi ha una Sub93. Ieri cambiando una lampadina, nel manuale ho trovato scritto che la macchina è dotata di barbecue e oggi con un mio assistente vi farò vedere questo magnifico accessorio che non sapevo di avere dopo 4 anni di utilizzo dell'auto. Oggi vi sveleremo questo segreto che penso che chi ha una Sub93 non lo conosca. Venite con me ragazzi. Ho scritto nel manuale, io ho trovato questa giornata che sembra caldissima. Qui ci siamo portati due buone bistecche già condite, così abbreviamo un po' il video. Vinceniamo la pizza. Una. Due. Due ragazzi, le bistecche stanno cuocendo. Questo è l'innovativo sistema di cottura della Sub93, ricordate lo Sub93. Versione Vector, che significa barbecue. Significa barbecue, vector, barbecue. Non l'avevate ancora capito, vero ragazzi? Ora vedrete la cottura del pollo nella sala. Così potrete ammirare la magnifica cottura perché è una cottura green, pulita, cottura pulita. Andiamo nel direzione, la carne si sta cucinando, vedete come è della bianca. Non sapevo che era dotata di barbecue la macchina e adesso l'ho scoperto. Ora io e il mio assistente vi faremo vedere anche la qualità della carne, quindi la mangeremo in diretta. Venga pure il mio assistente, viene Leonardo. Le mangiamo la prima bistecchina. Ragazzi, vi dico, è buonissimo. Non ho mai assaggiato il bollo con gli uomini. Buono buono. Ovviamente si è fatto con un po' di più di calma e ancora meglio. Ragazzi, ci vediamo con il prossimo accessorio della Sub93 Victor. Alla prossima, ciao ragazzi.